Una canzone che so che non sopportate perché è di un gruppo che detestate, no? Di ragazzacci, ragazzini, ma a me piace, a me piace, mi è sempre piaciuta questa canzone, cazzo? Oh, cazzo! Aspetta, no? Tra l'altro quello esce adesso, aspetta, aspetta, che cazzo suono? Che cazzo suono? Sì, però, quest'altro, dai, forza, fai questa marcia indietro, forza, forza, andiamo, andiamo, forza, dai che devo girarmi una carina, ma che cazzo? Ok Oddio Ma quale apologiae? Ma noi non ho da chiedere scusa a nessuno, chiedessero gli altri scuse che hanno combinato un casino, la mia vita, adesso mi sto istradando, anzi ho parcheggiato, quindi... Ecco, allora, stamattina, stamattina oggi, ma stamattina ho fatto gli auguri, appunto, oggi è il compleanno di Fabrizio Ciavoni, questo ragazzo che scrive di cinema, è molto bravo, molto in gamba Oggi aveva un po' di raffreddore, mi ha risposto su whatsapp, compie 27 anni, grande personaggio, un po' come me, noi siamo personaggi un po' strani, ma è giusto così, un po' strambi, un po' pindarici Compie 27 anni, gli ho fatto gli auguri al che poi ho parlato con un ragazzo che uscirà a breve, nei primi di ottobre, con un cortometraggio, secondo me è molto bello Ognuno, come diceva Stanley Kubrick, a proposito del significato, significato non c'è, di 2001 di Seno allo Spazio, ognuno sarà libero di speculare a suo gusto su un significato filosofico allegorico di quest'opera, di questo ragazzo Ora non posso svelarvi il nome, ma siamo, ma che urla quella lì, ma siamo diventati amici perché lui è stato il primo, il primo in assoluto, oltre naturalmente i miei genitori A comprarsi il mio libro su John Carpenter, Prince of Darkness, poi mi contattò su Facebook, da lì iniziò la nostra conoscenza Un ragazzo molto in gamba, molto più giovane di me, farà parecchia strada, poi da me sarà intervistato, scriverò la recensione di questo cortometraggio Non posso svelarvi il titolo E dai, andiamo a questa festa del cinema di Roma Che guarda, mi sto filmando, è inutile che guardi A questa festa del cinema di Roma andiamo a vederci questo The Irishman, no? C'è il grande alpacino, no? Jimmy Hoffa C'è Bob De Niro, quest'anno Bob De Niro Esce veramente con due perle, con due gioielle, con The Irishman E i suoi ultimi 20 minuti pazzeschi nel gioco con Todd Phillips Probabilmente non sarà candidato come miglior attore non protagonista Perché già uno spazio, anzi due spazi, saranno occupati Mamma mia, probabilmente da Joe Pesci o da Al Pacino di The Irishman Come best supporting actor Però, insomma, al 99,9% periodico Sarà candidato come miglior attore protagonista per The Irishman E' uscito il poster, insomma Ho già allestito il post da Roma Cinema Del trailer integrale che uscirà Forse è uscito mentre sto parlando adesso Chissà, uscirà, io spero che esca domani Comunque uscirà prima della presentazione del New York Film Festival Qui tutti mi osservano, dico questo è matto No, 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 sono un cinefilo Appassionato anche di un altro tipo di cinematografia Ci sono attrici bellissime come Kendra Lust Come Sherry Deville Come Carla Cash Io ho tutti i film Quasi tutti Questo non lo sapevate di meno Io sono un fanatico Anche di, diciamo, di quel cinema Ove si reca, appunto, Travis Bicol Il cinema Taxi Driver Insomma, ecco, perché qualche volta ho bisogno di orgasmizzarmi, no? Io vivo di riflesso Non è che vi siete voi di riflesso E pensate alle cose su di me Assolutamente non bere, delirate E mi proiettate questo delirio E in questo delirare collettivo Io ho sempre il neo alla deniro Mentre voi, insomma, siete sempre più neri nell'anima Sempre più imputriditi Dalle fandonie dei pettegolezzi Dalle piccinerie Io avrei il cervello piccolo Ma, non lo so Cervello, insomma, falotico Macrocefalo, non lo so L'importante è che qualcos'altro non sia piccolo E, insomma, sono Sono riniziati tutti i programmi politici Adesso sarà un bel vedere con Tiziana Panella Su Tagadà Che ancora non ha scosciato Indossa sempre i pantaloni Però, insomma, ha un paio di cosce Da competizione Da leone d'oro Probabilmente anche da Da baci della Pantera Chissà A me piace È una grandissima figlia Basta È una voce un po' antipatica Però Sì, la voce può essere antipatica Non solo il carattere È una voce un po' da cornacchie Però quando cavalla le gambe Insomma Ci si innalza come Come Joker E Oh, oh, oh E adesso andiamo a prendere questo caffè Io sono un maniaco di caffè Bevo 5, 6, forse 7, 8 Non lo so Caffè al giorno Alcuni di canna Poi prendo il ginseng Tu chi prendi? Tu prendi quella lì? Vabbè Felice lei Felice zucchero a te E vive il sale in zucca Ricordatevi Io sono qui Poi sarò lì E fra dieci minuti partirò Tornerò a casa Ci vedremo a Roma Tutte le strade portano a Roma E portano forse A A The Irishman Adesso un altro E Un altro che mi ha guardato storico Questo è un tipo Cazzo Questo è un ergastolano Cazzo Questo mi picchia adesso Dice Questo è un fascista Non vuole che le persone parlino Davanti al cellulare Che si filmino Infatti è ancora lì Che osservano Non gli frega un cazzo Non gli frega un cazzo Entra da solo nel bar E' un bel bar E' un bel bar E voi dovreste finire di barare Fra l'altro Devo finire di vederlo Sto guardando un film molto interessante Molto interessante Di un regista Che potrebbe fare molta strada Ci sono delle atmosfere All'Ario Argento Sto parlando di De Feo De Nest Il Nido La storia di un ragazzino Paraplegico Che vive Segregato in casa Con questa madre dispotica Arrogante Potremmo Rientitolarlo Il fascino indiscreto Della borghesia Stronza E chissà Devo finire di vederlo Chissà se questo ragazzino Prenderà il volo Scapperà Fuggirà via Da Da questa casa Angosciante Asfittica Logorante Ove ascolta Soltanto musica classica Beethoven Poi incontra Sì 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 La serva Che la serva serve Mi diceva Totò Una ragazzina Che lo aiuta E lui scopre anche La musica rock Incomincia a appassionarsi Probabilmente Incomincia A vivificarsi Forse a camminare no Però A A A A viversi meglio E A guardare Al di fuori Della Propria Malattia Del proprio Handicap Fisico E quindi Superare Ciò che è Comunque insuperabile Perché È stato causato Da Un incidente stradale Il danno è irreversibile Lui è sulla sedia a rotelle Però Con la fantasia Potrà volare Ove vorrà Quando vorrà E quando gli parrà Quello che invece Non sanno fare neanche Le persone normali Molte persone normali Non sanno evadere Dai loro schemi Non sanno sganciarsi Da Le loro convinzioni E continuano anche L'osarsi in pregiudizi E quindi Non sgranchiscono Le gambe Dei neuroni Ci sentiamo Ci vediamo a Roma Con The Irishman E andate tutti A farvelo dare nel culo Dico ai cattivi Dico ai cattivi Dico ai cattivi